Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Oggi parliamo di Paypal e parliamo del perché la potrei comprare. In molti di voi mi diranno, Lorenzo ma scusa, Paypal è un'azione che non dà dividendi, quindi andrebbe contro la tua strategia. Assolutamente vero, va contro la mia strategia di pensionamento a 50 anni perché proprio non distribuisce dividendi, ma in realtà vi farò vedere una strategia per cercare comunque di ottenere un flusso di entrata anche da Paypal. Però prima di parlare di come ottenere questo flusso in entrata periodico e di vedere anche i numeri di Paypal e perché mi sto interessando a quest'azione, vi voglio condividere un articolo che ho postato sul mio blog, ripreso da Corriere.it perché molti di voi sicuramente, io per primo devo dire, si associa solitamente a Paypal a pagamenti elettronici e basta. In realtà Paypal fa anche dell'altro, infatti sostanzialmente punta a diventare una banca per l'impresa anche in Francia, in che modo? offrendo dei servizi di crediti per le aziende. Un servizio tra l'altro che è stato lanciato online già negli Stati Uniti nel 2013 e poi negli anni successivi ha debuttato anche in Gran Bretagna, in Germania, in Australia e in Olanda e sono stati già concessi prestiti, pensate, per oltre 22 miliardi di dollari. In Francia verrà proposto a imprese già clienti del servizio di pagamento online con una soluzione basata sui ricavi digitali futuri delle società. Quindi, come detto, questo servizio che viene già offerto negli Stati Uniti ma anche in altre nazioni come Regno Unito, Germania e Australia ha permesso a Paypal di erogare già più di 1,1 milioni di crediti per un totale di 22 miliardi di dollari quindi con un importo medio di circa 20 mila dollari quindi prestiti che vengono fatte all'azienda in sostanza. Direi che siamo pronti quindi per vedere alcuni numeri mi raccomando poi se vi piacciono questi video un like per supportare il canale e chiaramente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto in questo modo non vi perderete i prossimi video se invece non vi piace il mio canale forse diventa anche inutile andare a commentare negativamente magari lo potete fare una volta però forse diventa anche inutile mantenere l'iscrizione e continuare a vedere i miei video io solitamente in tv faccio così se c'è qualcosa che non mi piace semplicemente cambio canale però partiamo con i numeri di Paypal molti di voi di sicuro non avranno dimenticato quello che è successo negli ultimi mesi Paypal aveva toccato un massimo anche di oltre 300 dollari per azione e attualmente siamo attorno ai 78 dollari nel momento in cui sto facendo il video adesso pensate che nel minimo del 2020 in piena pandemia Covid Paypal aveva toccato gli 86 dollari per azione quindi vuol dire che siamo a un livello addirittura inferiore al momento di maggior panico del 2020 e già questo mi ha fatto interessare a questa azione sembra quasi che Paypal debba fallire ma in realtà non è proprio così se andiamo a vedere il fatturato è in continua crescita ovviamente non sta tenendo i ritmi di crescita del passato perché comunque sta diventando via via che passa il tempo un'azione matura però comunque riesce a incrementare il proprio fatturato trimestre dopo trimestre se andiamo a vedere anche l'utile per azione il discorso è pressoché simile sicuramente aveva toccato un picco nel corso del 2020 quando i pagamenti digitali anche via internet avevano sicuramente avuto il loro massimo splendore perché chiaramente non si poteva uscire spendere denaro in contanti magari ma si era tappati in casa e si faceva più acquisti online e pertanto Paypal sicuramente ha avuto un momento di maggior fulgore però tutto sommato gli utili per azioni rimangono abbastanza solidi per quanto riguarda il numero di azioni in circolazione possiamo vedere che stanno diminuendo e questo è sicuramente un fattore positivo se ci sono meno azioni in circolazione e il trend è quello di una diminuzione gli utili vengono divisi per meno persone e quindi chiaramente nelle tasche di ogni azionista entrano più utili utili che come detto vengono reinvestiti da Paypal e non vengono distribuiti sotto forma di dividendo se noi andiamo a vedere il margine di profitto anch'esso avrà raggiunto un picco nell'arco del 2020 per poi scendere quindi questo l'ho sottolineato in giallo con una freccetta rossa perché chiaramente il margine netto è un po' in diminuzione ma tutto sommato possiamo vedere come si attesti attorno a un 15% e sia comunque in linea con la media storica quindi ha avuto un picco fuori media nell'arco della fine 2020 per poi però mantenersi su un livello sicuramente interessante andando a vedere il rapporto prezzo utili possiamo vedere come al momento siamo in una situazione di possibile sottovalutazione sottovalutazione rispetto a cosa? rispetto alla media storica di Paypal Paypal che ha avuto un picco anche di 80% come rapporto prezzo utili e adesso siamo al di sotto di 30% cosa che raramente è successa per questa azione e ricordiamo che più basso è il rapporto prezzo utili più economica in teoria è l'azione se invece la rapportiamo comunque all'S&P 500 o ad altre azioni non del settore pagamento digitali ma magari di azioni value possiamo dire che Paypal in realtà è ancora un pochino cara andrebbe magari confrontata con azioni dello stesso settore però secondo me è interessante notare questo calo che sta a significare appunto che il prezzo delle azioni è sceso molto ma è sceso molto di più rispetto all'andamento degli utili pertanto potrebbe essere un indicatore interessante su cui fare delle valutazioni poi lo ricordo sempre non si tratta di consigli per gli acquisti tra l'altro è un'azione che ancora non ho acquistato ma si tratta magari di spunti di riflessione che poi possiamo andare a condividere insieme nei commenti altro fattore che mi è piaciuto andare a vedere è il rapporto tra prezzo e free cash flow che può essere simile al rapporto PE però anche andare a vedere il free cash flow come dice il mio amico Davide Disidoro è sicuramente utilissimo e se il free cash flow rimane comunque elevato il prezzo si è abbassato per forza di cose questo rapporto price to free cash flow si è abbassato e anche qui siamo vicini ai livelli minimi per quanto riguarda l'azione Paypal infine mi piace anche vedere il rapporto debito-equity con una evidenza di 0,4 vuol dire che comunque il debito di Paypal è ampiamente coperto dall'equity 0,4 è un valore sicuramente basso quando siamo sotto a 1 secondo me è comunque un valore interessante per un'azienda e pertanto possiamo dire che anche il debito di Paypal è comunque sotto controllo ma veniamo alla questione principale come creare un flusso di entrate tramite i Paypal questa è la strategia su cui sto ragionando sarebbe quella di comprare direttamente l'azione Paypal per poi vendere delle call allora quali sono i contro di questa strategia? sicuramente che mi metterai in portafoglio un'azione che tutto sommato è vero mi piace ma che comunque non distribuisce dividendi quindi non sarebbe in linea con la mia strategia un altro rischio è quello che comunque per poter vendere opzioni call io sono costretto ad avere almeno 100 azioni Paypal quindi dovrei spendere all'incirca 8000 dollari che non è poco per il mio portafoglio e quindi andrai al limite della esposizione massima che mi pongo su una singola azione e quindi dovrei fare i conti con il mio money management lato positivo è che Paypal essendo molto volatile offre premi molto interessanti io faccio un esempio se comprassi oggi Paypal sto girando questo video venerdì 13 maggio quindi i prezzi potrebbero essere anche cambiati da quando vedete questo video se io comprassi oggi 100 azioni Paypal le pagherei 7900 dollari in totale se vendessi una call poi con scadenza 13 maggio chiaramente incasserai un premio anzi scusatemi se vendessi una call con scadenza 17 giugno che è il prossimo mese incasserai sicuramente un premio per l'operazione in questione in particolare più vicino è il prezzo strike della call e più io guadagnerei dalla vendita della call cosa succederebbe? facciamo due esempi concreti io ho acquistato Paypal a 79 decido di vendere una call a 90 quindi se il prezzo salisse sopra 90 io sarei obbligato a vendere al prezzo di 90 però nel frattempo incasserai un premio certo di 205 dollari chiaramente se il prezzo salisse a 100 io dovrei vendere a 90 quindi mi accontenterei fra virgolette di un guadagno di solo 11 dollari per azione anziché di 21 se alzassi lo strike a 100 chiaramente avrei la possibilità di vendere magari a un prezzo sicuramente più alto però incasserai un premio più basso di 75 dollari valutando che però si tratta di premi mensili anche soltanto 75 dollari rappresentano circa l'1% su base mensile ovvero il 12% anno e non è affatto male inoltre se Paypal salisse sopra 100 venderai a 100 con un guadagno molto molto interessante di circa il 25% detto questo Paypal può tranquillamente scendere quindi io sarei comunque obbligato a tenermela in portafoglio la potrei vendere in perida certo ma la terrei in portafoglio per poi vendere magari delle call successivamente il problema è che nel frattempo io non incasserai alcun dividendo ma incasserai comunque dei premi sulle vendite delle call allora abbiamo visto una strategia un po' particolare abbiamo analizzato l'azione Paypal ditemi pure nei commenti se potrebbe essere magari una opzione interessante quella di acquistare le azioni Paypal per poi venderci delle call avere un flusso mensile nel tempo magari se vendere acquistare anzi Paypal solo per speculare sul prezzo che magari per alcuni di voi può essere basso in questo momento oppure forse magari è meglio lasciar perdere con questa strategia io ci sto facendo un pensiero devo dire vediamo un po' quello che succede nei prossimi giorni e come si muove l'azione di Paypal ovviamente se il prezzo dovesse abbassarsi ancora sicuramente l'operazione diventerà più interessante perché c'è più margine di guadagno direi che per oggi abbiamo finito un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao